Bella a tutti, qui è Triface che vi parla ed oggi invece voglio farvi vedere come aumentare il livello delle nostre rune. Partiamo col presupposto di dover utilizzare i sigilli. Questa volta i sigilli saranno sempre craftabili all'interno dell'NPC che vi avevo detto nell'altro video ed oltretutto sbloccheranno un livello. In questo caso io ho creato un sigillo livello 25 di questo dungeon. Quindi quello che dovremo fare è semplicemente andare nei consumabili ed utilizzare il nostro sigillo. Una volta fatto questo, come vedete all'interno della mappa ci apparirà un cancello con questa X rossa. Noi semplicemente dovremo andare nel cancello. Questa volta è semplicemente un dungeon che è stato modificato nel livello del sigillo. Vi ricordo che i sigilli all'interno contengono sotto tutta una descrizione con scritto i malus e i benefici che noi possiamo prendere all'interno del nostro dungeon. Cerchiamo di completare tutto il dungeon. Una volta completato il dungeon vedete che apparirà questa bolla con dentro una sorta di altare. basterà semplicemente cliccare l'altare a fine dungeon ed otterremo la possibilità di dare l'esperienza con la barra gialla che vedete all'interno delle nostre rune. Quindi selezioniamo una runa e vedremo che questa runa aumenterà di livello o comunque aumenterà di esperienza. Dipenderà ovviamente dal livello della vostra runa. Ok come possiamo vedere all'interno della nostra scacchiera quindi abbiamo la runa centrale nel posto rosso e vediamo tutti quei quadratini rossi. Quella è l'area della nostra runa. Quando noi aumenteremo la runa vedete che questa è a livello 14. Quando noi aumenteremo la nostra runa l'obiettivo per l'appunto portandola a livello 15 sarà quella di sbloccarne il massimo potenziale espandendo questa scacchiera rossa. Quindi una volta che sarà a livello 15 potremmo avere più possibilità di potenziare questa runa perché vi ricordo che aumentando quindi i punti di estrezza forza o quello che è richiesto nella runa la runa va a potenziarsi all'interno della scacchiera. Quindi andiamo subito a livellare la runa al 15. Come potete vedere la runa è al 15 e questa volta la scacchiera si è ingrandita. Ingrandendo la scacchiera quindi sarà possibile aumentare il potenziale all'interno della runa perché come vedete qua per ogni 5 punti di estrezza che io avessi messo la runa si sarebbe potenziata. Quindi questo è davvero davvero molto importante per potenziare le nostre rune. Io con questo ho terminato, mi raccomando se vi serve una mano mettete un commento qui sotto altrimenti potete trovarmi su Twitch in stream. Se volete darmi una mano invece mi basterà un bellissimo like. Bella a tutti, ciao!